vedete queste macchine sono decoratissime, sono belle a vedersi la mangiata è sicuramente, o per sempre il meglio, a livello di catture, ma almeno non ancora arrivare forse sarà il passaggio verso Orte, da lì direttamente a Roma, c'è l'arrivo di Tappa amici sportivi, questo è veramente un evento unico vogliamo ringraziare un propassone, uno dei deus ex macchina della squadra di traguardo che tanto ha fatto per riportare la mille miglia in questi territori dopo tanti anni la mille miglia a Tappa in Umbria, la mille miglia a Passa Orvieto, Passa Amelia e con esso il tributo a Mercedes e Ferrari, guardate che macchine splendide veramente uno spettacolo unico per gli sportivi potete continuare a transitare il trattore di colla a queste macchine, vedete c'è il grande verità avremo quando sarà il turno delle autostoriche, il nostro amico Bertaro qui darà le indicazioni sui transiti dei concorrenti è dato un cenno proprio a Bertaro allora diciamo il tributo è cominciato con le Mercedes così è l'Aberro che incazza, non voglio se mettono un lato per l'altro poi è l'acqua dei concorrenti abbiamo diventato avanti Grazie a tutti. Grazie a tutti.